Ciao bellezze e bentornate in un nuovo video. Negli ultimi periodi la domanda più gettonata è stata Ti vedo dimagrita? Che cosa hai fatto? Che metodo stai usando? Cosa stai facendo? Ho pensato una ricetta di una delle mie colazioni preferite. Perché sì, è vero, sono dimagrita, ho perso circa 6 kg nel corso di questi mesi. Sto facendo un'alimentazione sana ed equilibrata seguita dalla mia nutrizionista dove consumo cibi senza glutine e senza lattosio visto che sono sensibile al glutine e al lattosio e mi infiammano tantissimo. Di conseguenza non avendo più dei cibi che infiammano il mio organismo vado anche a sgonfiare molto e dimagrire. Quindi è questo diciamo quello che sto facendo da mesi ormai con ottimi risultati e appunto volevo condividere questa ricetta di biscotti senza glutine e senza lattosio per chi come me fa questo tipo di alimentazione. Eccoli qua, sono buonissimi, semplicissimi da fare e molto molto golosi. Su Instagram avete visto tante volte questi biscotti. A proposito, se non mi seguite su Instagram andate a seguirmi, mi trovate come indicato qua sopra esteticaenza. Vi lascio qui in sovrimpressione la lista degli ingredienti. Un uovo, 100 g di zucchero, una bustina di vanillina, 60 g di olio di semi e 200 g di farina di riso. Come potete vedere gli ingredienti sono semplicissimi, non è una ricetta difficile da fare. Vediamo adesso insieme il procedimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho messo i guanti per iniziare a impastare a mano perché trovo che sia molto più igienico e poi non mi piace sporcarmi le mani, ok, sì, dopo le rilaverò sicuramente, ma così è molto più comodo. Gli impasti con farina senza glutine sono molto difficili perché non sempre si legano alla perfezione. Infatti in questo caso bisogna avere tanta pazienza. Bisogna ammorbidire bene bene l'impasto e lavorarlo molto. Ok, questo è il panetto che è venuto fuori e lo divido a metà più o meno perché metà andremo a fare biscotti semplici, e l'altra metà e l'altra metà le andremo a fare aggiungendo le gocce di cioccolato. Allora, questa pasta, questa frolla, si può anche stendere, quindi potete spargere la farina sul piano, stenderla col mattarello e dare la forma con le varie formine, ma io preferisco fare cose molto facili, pratiche, veloci, quindi prendo semplicemente questa quantità di impasto e vado a creare il mio biscotto. Lo lavoro in questo modo come se fosse una polpetta e poi schiaccio. Alla restante parte dell'impasto vado ad aggiungere 50 grammi di gocce di cioccolato. Allora, questo è il panetto che è venuto a fare aggiungere 50 grammi di gocce di cioccolato. Questi sono i biscotti su taglia pronti per essere infornati. Come avete visto sono veramente molto semplici da fare e ci vuole veramente pochissimo tempo. Fatemi sapere con un pollice in su se la ricetta vi è piaciuta e con un commento se volete che io faccia più spesso video del genere, dove vi mostro la mia alimentazione, le mie colazioni preferite, cosa sto continuando a fare per perdere peso e se vi possono interessare anche i video What Eat In A Day senza glutine e senza lattosio. E magari comunque, a parte le ricette senza glutine e senza lattosio, insomma il mio piano alimentare, cosa mangio giornalmente, dal quale potrete prendere tranquillamente spunto per i vostri pasti. Io vi ringrazio come al solito per essere state qui con me oggi e vi aspetto la prossima settimana con un nuovo video.